Si spera che con la nuova legge e la gestione commissariale dell'ente si possano individuare gli autori già noti di questo disastro e dopo averli chiamati alle loro responsabilità si avvia un percorso di risanamento nella più totale trasparenza a beneficio dei consorziati e di riflesso della collettività tutta. Il nostro impegno sarà soprattutto quello di vigilare su tutta l'attività del consorzio fino al totale risanamento e la lega di Sulmona a rincarare la dose su consorzio di bonifica interno a Terno Sagittario finito alla ribalta delle cronache in questi giorni. Il coordinatore del partito Nicola Di Simone e la consigliera comunale di Sulmona Roberta Salvati entrambi presenti alla conferenza stampa tenuta dal commissario Iovenitti e dell'assessore regionale Imprudente sottolineano che l'incontro organizzato come noto alla presenza del commissario Sergio Iovenitti per chiarire la gravissima situazione contabile amministrativa riscontrata è evidenziato arretrati e buchi finanziari pesanti lasciati dalle passate gestioni. Il commissario ha di fatto illustrato il lavoro fin cui prodotto mettendo in luce carte alla mano procedure amministrative atti delibere quanto meno dubbi che hanno prodotto condizioni debitorie gravi e imbarazzanti già ampiamente riportati dalla stampa locale per questo la lega difende l'operato di Imprudente facendo notare a caratteri cubitali che era necessaria una legge una riforma era più che mai indispensabile più che mai in questo consorzio che non ha uguali nel resto d'Abruzzo per tipologia di esposizione debitoria.